all'unico vero creatore. Yahawa è il nome vero del padre nell'antico ebraico che tradotto è colui che esiste. E Yahawa è il nome di suo figlio, nostro salvatore, che tradotto è colui che è il salvatore, colui che oggi dall'ignoranza conosciamo con il nome di Gesù e conosciamo con la falsa immagine di Cesare e Borgia. Doppi onori agli apostoli anziani della Great New Stone GMS per avermi insegnato questa verità e per il loro lavoro di ministerio e saluto tutta la Casa d'Israele, tutte le dodici tribù che oggi per volontà del Padre mio sono disperse in tutto il mondo, tutti gli eletti della Casa d'Israele che oggi lavorano in questa verità affinché arrivi nei quattro punti della terra per far realizzare la profezia prima del ritorno del Messia. Shalom, forza e coraggio. Sono qui oggi con una lezione molto importante perché è la lezione dei comandamenti, la lezione che riguarda i nostri comandamenti, un dovere che noi abbiamo verso il Padre nostro. Ci sono stati insegnati sbagliati, le chiese, le religioni ci hanno ingannato e hanno fatto sì che violassimo i veri comandamenti. I veri comandamenti che sono nella Sagra Bibbia, nelle scritture, in quale c'è solo verità in questo libro perché è la vera parola del Padre, è la vera dottrina, è la sana dottrina, è il sano insegnamento e nella Bibbia, in tutte le Bibbie del mondo i comandamenti, dieci comandamenti sono scritti corretti, sono gli uomini che hanno cambiato i comandamenti, sono gli uomini che hanno cambiato le leggi, come possiamo andare a vedere dalle scritture. Andiamo nel libro di Daniele, Daniele capitolo 7 versetto 25 che leggiamo. Egli parlerà contro l'Altissimo, si riferisce al regno di oggi, affliggerà i santi dell'Altissimo, cioè il popolo di Israele che oggi sono i poveri della società, sono coloro che occupano l'ultima casella della società e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. Come ho detto nella scorsa lezione, si sono impegnati nel modificare il calendario affinché usassimo le loro festività, affinché festeggiassimo nei giorni in cui festeggiavano loro, i loro falsi dèi, siamo stati ingannati e ci hanno allontanato dalla legge di Yahawo Bashem Yahawashai, il nostro creatore nel nome di suo figlio. E io oggi sono qui per farvi semplicemente ravvedere, farvi vedere la verità di quali sono i veri dieci comandamenti. I dieci comandamenti li troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Sono molto importanti, sono molto importanti perché è il patto che abbiamo fatto noi con Yahawo Bashem Yahawashai, nostro creatore, dobbiamo rispetto al nostro creatore e il rispetto che gli dobbiamo, la fedeltà che gli dimostriamo, gliela dimostriamo attraverso i comandamenti, perché la fede senza le opere è nulla. Poi dopo andiamo a vedere anche questo versetto, anzi lo andiamo a vedere subito, andiamo subito in Giovanni, scusatemi, in Giacomo, nella lettera di Giacomo nel capitolo 2, versetto 4, possiamo leggere, versetto 14 scusate. A che serve? A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se andiamo avanti, insensato, vuoi renderti conto che la fede senza opere non ha valore? O ancora più importante, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza opere è morta, ok? Questo ci fa capire che la fede soltanto senza le opere non serve a nulla, è come essere in un corpo morto, è come avere la fede morta, quindi i comandamenti sono le prime opere nel quale dobbiamo lavorare, nel quale dobbiamo mostrare la nostra fedeltà, quindi ritorniamo qui nei comandamenti. Esodo capitolo 20, datelo a leggere perché i comandamenti non sono stati modificati sulle Bibbie, i comandamenti sulle Bibbie sono rimasti intatti, è l'uomo che li ha modificati e ci sono stati insegnati sbagliati. Adesso andiamo a confrontare i comandamenti delle scritture con i comandamenti che ci hanno insegnato i falsi profeti, le religioni, dal cristianesimo a tutte le altre. qui leggiamo il primo comandamento, non avrai altro Dio fuori di me. Il primo comandamento che c'è sulla scrittura è lo stesso, non avere altri dei oltre a me, perché l'inizio del capitolo è la presentazione di Yahawa Bashem, Yahawa Sha'e. Yahawa è il nome del padre, Bahashem nel nome di Yahawa Sha'e che è suo figlio. E leggiamo. Allora il potere, Yahawa pronunziò tutte queste parole, io sono il Signore, il tuo potere, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, casa di schiavitù. Questa è l'introduzione ai dieci comandamenti, l'introduzione al patto della Santa Alleanza che noi facciamo con il padre nostro. Il primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. E qui è il primo che... è il primo comandamento che ci tengo a spiegarvi, perché non avere altri dei nei miei confronti, altro Dio oltre a me, non significa semplicemente ok, io credo, credo nel Signore, nell'unico Dio. E poi si prendono le cattive abitudini, gli insegnamenti sbagliati della società di oggi, della così chiamata bestia, che sono le venerazioni, le adorazioni e le preghiere a Santi e Madonne. Perché mettere Santi e Madonne, pregarli e adorarli, è come metterli vicino al padre nostro. Quindi quando il padre nel primo comandamento ci dice non avere altro Dio, altri dei oltre a me, significa che nessun altro, solo al padre nostro noi rendiamo il nostro culto e diamo le nostre preghiere e le nostre adorazioni, solo a Yahweh Bashem, Yahweh Shai, diamo le nostre preghiere, le nostre lodi e ringraziamenti e a nessun altro. Santi e Madonne sono menzogne, sono inganni creati dalle religioni, creati dall'uomo. Il padre non vuole condividere con nessuno il suo amore e il culto nel quale siamo stati chiamati. Andiamo a vedere il secondo comandamento. Il secondo comandamento che oggi conosciamo con non nominare il nome di Dio in vano e qui troviamo un grande inganno, qui c'è uno dei più grandi inganni nel quale siamo stati seduti, siamo stati ingannati e abbiamo peccato perché il secondo comandamento come ci dice le scritture è questo qui. Non farti scultura né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare davanti a loro e non li servire. Questo è il secondo comandamento, di non farci né scultura né immagine di ciò che è nei cieli, perché così sennò saremo degli idolatori e hanno fatto diventare i fedeli di oggi degli idolatori, perché la maggior parte, tutti quanti oggi hanno immagini e statuette e santini e madonnine e crocifissi. Quella è idolatria, quello è violare il secondo comandamento. Quindi è per questo che ho voluto fare questo video, soprattutto per questo, per ricordarvi il secondo comandamento. Il secondo comandamento molto importante, il secondo comandamento che ci comanda di non prostarci davanti a nessuna statua, davanti a nessuna immagine. Quindi ravvediamoci e andatevi a leggere con i vostri occhi perché c'è bisogno che lo facciate anche voi. Non c'è bisogno che ascoltiate solo me, ma c'è bisogno che voi preghiate il Padre e che il Padre vi dia lo Spirito per comprendere, per avere la conoscenza di questi comandamenti e per rispettarli al meglio. Come andiamo a vedere, poi il terzo comandamento è non pronunciare il nome del Signore potere tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Quindi di non bestemmiare naturalmente, di non pronunciare il nome inutilmente, di non usarlo per modi di dire. E quindi qua vi fa vedere come è stato cancellato il secondo comandamento, di non essere un idolatore, di non essere come i pagani, i pagani sono i re degli idolatori, la loro cultura si basa sull'idolatria di pregare, adorare e prostarsi davanti a immagini e sculture. Quindi qua vedete che il secondo comandamento è stato cancellato ed è stato rimpiazzato dal terzo comandamento. E così via il quarto comandamento, anzi rileggiamolo direttamente da qua, che sarebbe il quarto comandamento della Bibbia, ma qui l'hanno messo al terzo posto, è ricordati di santificare le feste. Dove è scritto ricordati di santificare le feste? Andiamo a vedere, questo è un altro inganno, perché guardate qui il quarto comandamento che oggi l'hanno insegnato come terzo. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore, potere tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né il tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo streno, perché in sei giorni il Signore fecececele la terra, il mare e tutto ciò che in essi, e si riposò il settimo giorno. Però vorrei prendervi da un'altra versione, che è il giorno del sabato, questo qui è il giorno del sabato, eccolo qua. Ricordati di consacrarmi il giorno di sabato, comunque è il giorno del riposo, anche se in questa versione qui non c'è scritto che è il giorno di sabato, ma comunque sappiamo che il giorno del riposo del Signore, lo dice all'inizio della Genesi, lo ripete più volte, il giorno del Signore, il giorno del Padre, è il sabato, lo Shabbat, come da cultura ebraica, come da cultura di Israele, rispettiamo e consacriamo il giorno di sabato. Quindi vediamo come qui hanno modificato il terzo comandamento, hanno cancellato il secondo comandamento, hanno modificato il quarto comandamento, che per loro è il terzo. Quindi qui voglio fare una piccola parentesi. Così ci hanno ingannati e hanno fatto in modo che noi sbagliassimo, ci hanno detto di onorare le feste, ma dove è scritto di onorare le feste? C'è scritto solo ed esclusivamente di santificare il giorno del riposo del Padre nostro, che è il giorno di sabato, è il giorno dello Shabbat, giorno in cui noi non dovremmo lavorare. Ed è per questo che Yahweh Shai ha detto che i nostri peccati ci saranno perdonati. Non significa che noi, quando dice che i peccati del mondo sono stati perdonati dal figlio, non significa che noi possiamo peccare e ci è perdonato tutto. Ci sono perdonati i peccati che noi abbiamo commesso nell'ignoranza. Quindi i peccati, o comunque i peccati come il giorno del sabato, che come capita a me a volte purtroppo mi tocca lavorare, perché lavoro in un'azienda, in una fabbrica e in fabbrica non posso dire di no. Ma come tanti fratelli nel mondo, ci tocca lavorare perché il giorno dello Shabbat, secondo il calendario della luna, capita anche durante la settimana, che noi seguiamo il calendario della luna, il calendario naturale che ci ha dato Yahweh in un'azienda. Quindi andiamo avanti. Altro comandamento, onora il padre e la madre. E qui è corretto, onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra, che il Signore il tuo potere ti dà. Onorare il padre e la madre significa aiutarli, servirli, ubbidirgli. Sempre nel rispetto di Yahweh Hashem, Yahweh Hashai, naturalmente. Non uccidere. Ok? Ci siamo con questo qua, naturalmente abbiamo detto primo, secondo, terzo, quarto, quinto comandamento. Sesto comandamento non uccidere. Andiamo a vedere qui. Naturalmente il quinto perché hanno eliminato il secondo. E qui c'è un altro, in confusione la possiamo chiamare. Naturalmente loro sono i discendenti di Babilonia. Quindi Babilonia, che Babel significa confondere. E quindi hanno confuso. E ci hanno confuso anche su quest'altro comandamento. non commettere atti impuri. Che io per anni mi sono chiesto cosa significasse non commettere atti impuri. E andiamo a vedere il comandamento vero qual è. Il comandamento vero è non commettere adulterio. Quindi è questo il comandamento. Non commettere adulterio. Che significa di non avere rapporti con un'altra donna che non sia tua moglie. Ok? Io personalmente per anni mi sono chiesto che significa non commettere atti impuri. Di zozzerie. Che non è scritto non commettere atti impuri. È scritto di non commettere adulterio. Di non andare con un'altra donna che non sia tua moglie. Questo significa non commettere adulterio. Quindi il comandamento è questo. Perché non commettere atti impuri può essere interpretato in modi diversi. Invece non commettere adulterio, così come è scritto nella Sacra Bibbia, è uno solo. Non andare con altre donne, un'altra donna che non sia tua moglie. Punto. Chiarezza, ordine. Yahao Bashem Yahao Bashai è il re, padre dell'ordine. Ha fatto tutto con ordine ha fatto. È l'uomo che ha confuso tutto. È l'uomo che ha cambiato tutto. Andiamo avanti. Comandamento non rubare. Che è l'ottavo comandamento. L'ottavo comandamento. Puoi non dire falsa testimonianza. Il nono comandamento. che qua parla. Il padre dice di non dire falso contro il tuo prossimo. Quindi è corretto di non dire falso. E poi ecco qua faccio vedere dove sta l'inganno. Un'altra confusione, un altro inganno negli ultimi due comandamenti che ci hanno dato i malvagi, che ci hanno dato i falsi profeti, che ci hanno dato i diavoli. Gli ultimi due comandamenti. Non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri. Cioè questi sono i comandamenti che io ho studiato da bambino quando andavo al catechismo. Mentre nella Bibbia, nelle Sacre Scritture, nella parola del padre è un solo comandamento. Perché dopo il nono comandamento, non attestare il falso contro il tuo prossimo, l'ultimo comandamento è non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asimo, né cosa alcuna al suo prossimo. Quindi è un unico comandamento. E qui invece l'hanno diviso in due per rimpiazzare il secondo. Perché hanno eliminato il secondo e hanno preso l'ultimo comandamento e l'hanno trasformato in due. Quindi avete visto tutto l'inganno. L'inganno che hanno eliminato il secondo comandamento, hanno modificato il comandamento dello Shabbat, del giorno del riposo del padre, hanno confuso sul comandamento degli atti impuri che non commettere adulterio e infine hanno preso l'ultimo comandamento che è di non desiderare cosa alcuna al tuo prossimo, né moglie, né casa, né quello che possiede. E l'hanno diviso in due. Quindi vi ho fatto vedere come sulle Bibbie, come nella Bibbia a casa vostra, come su qualsiasi scrittura, sacra scrittura che c'è nel mondo. Quali sono i comandamenti che ci ha dato? Yahao Bashem, Yahao Asha'e. E quali sono i comandamenti che ci hanno dato i diavoli, i malvagi, gli ingannatori, i re delle menzogne, che sono le religioni. E non se ne salva una di religione. Tutte le religioni portano nel fosso, perché tutte le religioni sono guidate da ciechi. E quindi se vi lasciate guidare dai ciechi, siete ciechi anche voi. E quindi un cieco, quando guida un altro cieco, come dice Yahao Asha'e, cadiamo nel fosso. Quindi aprite gli occhi. Aprite gli occhi. Pregate il Padre nostro e chiedetegli la Ruka Akadash, che è lo Spirito Santo. E che, come dice Yahao Asha'e, se chiedete, se pregate, vi sarà data. E con quella, con lo Spirito Santo, con la Ruka Akadash, potrete andare a comprendere, avere la vera conoscenza, la verità di chi è il Padre nostro e chi è suo figlio. Come ho detto in un'altra lezione, Yahao Asha'e è di colore negro, viene dalla tribù di Giuda. L'immagine che ci hanno fatto conoscere è l'immagine di Cesare Borgia, un tiranno. Hanno messo l'immagine di un bianco per fare la supremazia bianca, per ingannarci, per confondervi. Ricordatevi, quando Yahao Asha'e ha detto non lasciatevi ingannare da coloro che verranno sotto il mio nome. Perché molti verranno e molti saranno ingannati. Pochi conoscono la verità, la verità che sarà svelata negli ultimi tempi. Con questo voglio chiudere e lascio tutto nel sacro nome del Padre creatore onnipotente Yahao, Baha Hashem, Yahao Asha'e, Baha Hashem, Rukah, Kudash. E saluto tutti i fratelli, tutti coloro che appartengono alla Casa di Israele e che portano questa verità in tutti i quattro punti della terra. Shalom e forza e coraggio.